Domenica 27 aprile 2014, è la prima gara a San Giglio, a Buggy Track Indoor, sono le ore 7.40 e qui non c'è ancora nessuno, sembra tutto abbandonato, ci sarà la gara in questo strano posto, aspettiamo Simo che ci apra. Ragazzi allora, prima la questione della gara, la gara si svolge con delle qualifiche da 10 minuti, 2 qualifiche da 10 minuti per tutte le categorie, 2 qualifiche da 10 minuti, le batterie delle finali verranno composte dalla media dei 3 miglior giri consecutivi nei 3 minuti, con lo scarto della qualifiche da 10 minuti, la classifica è a punteggio, quindi verranno assegnati lì più un'invenzione del piazzamento in finale, quindi primo posto, cento posto, nel caso di pari quali punti, 2 che fanno? C'è la cosa lì del maggior numero di giri, con ovviamente le finali sono 3, con lo scarto da 10 minuti, questo per quello che riguarda il remoto, le solite raccomodazioni sul palco, no? Nelle qualifiche si può scendere e salire dal palco? Nella qualifica si può scendere e salire dal palco purché non si corre, se diversamente poi dovrete ripresi perché si rischia di passare, cioè tanto non è che fa la sommatoria dei giri, non è necessario poi, non è che più giri fate più la qualifica la mette, è la media dei 3 migliori giri consecutivi, quindi se dovete scendere per regolarvi l'unico che ne so, e poi risalire tenete sempre a mente che però sul palco ci sono altri. . . . . . . non c'è noia, non c'è noia, non c'è noia non c'è noia ci sono i miei ma vengli eri stavamo i cappellini giunati no, perché ora rimarciamo matelasso 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 trasparente matelasso matelasso cos'è? ah partenza del 2 devo farlo già dopo qua davanti allora ci siete? la ghezza marletta venita chiare congola calvetta calvetta a bene che cese buia voti evitato ecco le qualifiche del buggy impegnative calvetta ok calvetta 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 calve calvetta I posti? Youtube il tubo devi stare una geggina che la tieni con un bastone il tubo sono Grazie a tutti. 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 No, 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 il primo va di là, il primo va di là. No, mamma, è arrivato uno. tutti e due, salame e bottiglia su youtube c'è il canale dai giopo dai giopo dai giopo verso fiolesi settimo, Rizzo Nicola sesto, Fotti Paolo dico, Rocca del Mere quarto, De Bernardi Massugliano terzo Paolo Di Massimo secondo bravo guarda la leggenda continua anche in altri ambienti che ha smettato la ruota d'arte bravo voto di gruppo bravo Ivan Barlow è macchinina ragazzo facciamo contattiggiamo il 50% a sorteggio allora intanto facciamo un applauso a Simone bravo Simone bravo Simone bravo Simone bravo Simone bravo Simone bravo Simone